ragazzi buongiorno niente vi aggiorno sulla situazione ammessima in questo momento siamo dentro l'ospedale praticamente sta succedendo l'inferno le fondazioni siamo più ci stiamo attivando per quello che possiamo fare aspettando anche i vicini del fuoco siamo in una brutta situazione brutta situazione siamo in una brutta situazione brutta situazione poi in grado di tutto e di più siamo consumati ragazzi consumati evito di riprendere le persone siamo in piena emergenza piena emergenza piena emergenza ragazzi non lo so come andratti ma in questo momento stiamo sta succedendo l'inferno le fondazioni siamo più ci stiamo attivando per quello che possiamo fare aspettando anche i vicini del fuoco siamo in una brutta situazione brutta situazione siamo in una brutta situazione brutta situazione poi in grado di tutto e di più siamo consumati ragazzi non lo so come andrà a finire non lo so come andrà a finire non lo so ragazzi buongiorno niente che il giorno sulla situazione è messima in questo momento siamo dentro l'ospedale praticamente sta succedendo l'inferno le fondazioni siamo più ci stiamo attivando per quello che possiamo fare aspettando anche i vicini del fuoco siamo in una brutta situazione brutta situazione siamo in una brutta situazione brutta situazione poi in grado di tutto e di più siamo consumati ragazzi siamo in piena emergenza piena emergenza piena emergenza ragazzi non lo so come andrà a finire non lo so grazie なんか gente